buongiorno a tutti ecco un semplice circuito composto da quattro esercizi che potete eseguire tranquillamente a casa saranno quattro round 40 secondi lavoro 20 secondi di recupero il primo esercizio squat pulsati piedi larghezza spalle busto dritto scendo e risalgo senza distendere completamente l'acca guardiamo di lato secondo esercizio posizione di ormo gambe tese braccia tese tenuta esumente guardiamo di lato dovesse essere troppo difficile abbasso le braccia fletto leggermente le gambe fate attenzione ad avere la lombare completamente a terra terzo esercizio affondi posteriori busto dritto lo vediamo di lato quarto esercizio plank in appoggio sui gomiti gomiti sotto le spalle piedi leggermente distanziati tenute esometri vediamo di lato buon allenamento pari pari Grazie per la visione!